Buonanotte. Buonanotte. Il suo figlio, Eligardo, è stato battezzato con l'ordine di prenderlo. Cos'ha? A prenderlo in che senso? Portarlo via. Ma glielo portatelo via! Tutto è stato fatto in piena regola. Ma! Eligardo! Secondo il diritto canonico. Mi toglieranno la testa, papà. Ti faranno niente. Si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue. Questo creerà nuove attenzioni. Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata a fine in America. Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Mio figlio è ebreo! Hai battezzato mio figlio. Hai battezzato mio figlio! Voi mi sentire! Voi mi sentire! Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. No! Questa è la tua famiglia adesso. Questa è la tua famiglia adesso. Ho 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 la Inteo, Questa è sta da tua famiglia! Grazie.